Buongiorno, Accademia Culinariana, oggi c'è il macaroni di sabbici di uosos, i pomidori cerri, noi facciamo in patelina, oliva extravergine, ciosneche, e ruggiamo in patelina. Ruvnolego e ciosne, grube sul, basilica, troche mishu mishu, i terras pomidori da nasce a patelina, e dalle i gemme dalle nasce sos basiliove, troche oliva, i sos basiliove gotova. I pomidori sono in dosi cipwe, sminiamo strona, i položime na goronca patelina nasce uosos strona scura. Cekamme tico, chiedi color, minisce do pravie uova, solime, piepš, i terras zamekame, i cekamme gi sminisce cao i color, chiedi uosos ma zupeni inne color, i es gotove. Možeme servovac scura na guže, ceba tico, teraz to položiš nasce sos basiliove, troche decoracije. Scura ve hoji super fantasticne e scrupionza, i uosos zostaje super sociste. Buonissimo, ciao!